E ciao a tutti ragazzi sono Bakuz e oggi siamo qui in questo mio nuovo video di Clash of Clans Si sto registrando con la GoPro ma volevo iniziare questo video così tanto per Quindi bella ragazzi Ciao a tutti ragazzi sono Bakuz e oggi siamo qui In questo fantastico video su Clash of Clans Importantissimo ragazzi questo video è speciale ma speciale 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 perché vedete qua Vedete qua Youtube Ita Junior E si ho creato il mio il mio eh il mio cazzarola E il mio clan E mettiamolo tra i preferiti E niente l'ho creato ieri sera Avevo fatto il video in cui lo volevo Avevo chiesto se lo potevo creare Alcuni mi hanno detto di si Alcuni miei amici hanno detto di si Allora siamo qua Niente allora adesso promuoviamo Anziamo questo qua E niente io vi chiedo Chiedo chi volesse entrare Il mio clan arriviamo a 10 già almeno Così almeno facciamo le war E niente chi chi è bravo anche ad attaccare così entri pure così può condividere il video della guerra e io posso fareci anche dei video carini così Quindi questo è il mio clan niente particolare solo che a capo ci sono io con il clan l'account più forte Allora ragazzi quindi questo era il video per questo quindi non so che cavolo fare Lasciate un like Lasciate un like E iscrivetevi al canale E condividete il video Ma non è finito qua il video Faccio prima un attacco Un attacco Guardate le mie truppe tattiche Quante truppe Allora c'ho un angelo 9 giganti 30 Bene Le ho fatte a caso sinceramente queste truppe qua Ma fa niente Come sempre Come sempre non c'ho Non c'ho portata di mano le pozioni Quindi mettiamo così Bene E possiamo attaccare Stiamo arrivando anche a livello 60 E sull'altro account Sono quasi arrivato a livello 88 Tra pochissimo E niente ragazzi non vedo l'ora Non vedo l'ora Caga la festa qua Allora dai troviamo un bel Un bel villaggino fortissimo No Comunque ragazzi Se vi chiedete Perché Perché gioco su questo account E non su quello forte Ecco ne ho trovato uno Comunque aspettate un attimo Se vi chiedete perché E perché Mi serve l'ipad Per registrarci sopra Mi serve pure un cavo A dicembre prenderò l'ipad E tutto quanto Quindi aspettate Siate pazienti Boh attacchiamo questo ragazzi Non so la che fare Vabbè attacchiamo questo Da dove? Da dove? Da sinistra in basso? Allora prima Qualche arciore qua Perché ha tanto elisir Tanto tanto Cazzo Cazzo Tanto elisir E anzi Attacchiamo da acqua Anzi Oh grande Ma che bravo sei Dico il mio Andata Bastardi Mi avete rotto le palle Grande Butta giù il re barbaro E tutti gli arcieri Mamma mia I giganti al 6 I miei giganti al 6 Peraltro E adesso buttate giù tutto Oh Boom bitch Getrack Mamma mia Zbo 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 Ragazzi Zbo 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 Pertiamo giù gli ultimi archi E vediamo cosa Riusciamo a fare Vediamo se Tentiamo il 100% Ma mi stanno seccando il re barbaro E uno via 100% un caso Non facciamo Però almeno le cose Le potremmo Dai giganti Oh mortaio Non mi distruggerei Gli ultimi arcieri Vai Grandissima Possiamo recuperare tutti i depositi dell'Isir Perché abbiamo eliminato i mortai Cannone Batteria scarica Grazie Puoi anche toglierti No però 100% sai non sarebbe male Vai gigante No merda però Così non va bene Vai che culo il mortaio Che mortaio Il cannone era bassissima vita Bene grandissime Un bel 100% si può anche fare Si può anche fare un bel 100% Intanto Intanto vediamo qua Cos'è che troppo Bene dopo farò un attacco pure con il secondo account E qua un bel 100% Si è potuto Vedere E gli ultimi 30 secondi Bakus riesce a fare un bel 100% Tra stelle con Un meraviglioso bottino Benissimo ragazzi Allora adesso Faccio un attacco con Bakus Giù è un mio amico L'ho invitato io Grandissimo Bene Vedete ragazzi Gli amici A cosa servono Eh già Servono a portare gli amici E via Bene Allora adesso possiamo Posso attaccare Quindi a dopo Bella Ragazzi ho finito l'attacco Devo dire che non è stato Per niente Alziamo qua la cam Perché prima mi ero sdraiato E non è andato chissà bene Granché Vabbè Chissà bene Granché Cazzo ho detto Non lo so Aspettate Eccolo qua ragazzi Il bottino era tipo Di 300.000 risorse Non era male Solo che Non è andato benissimo Ma vabbè Le truppe non è che Erano chissà che Era proprio un attacco farm Così Guardate qua Proprio Strategia assurda Uccidere le truppe del clan E poi boom Giù Giù di brutto Tutte le truppe Streghe Dietro Però non è che abbiamo fatto Un bel lavoro Poi vabbè E' andato un po' Un po' maluccio Ho preso quasi tutte le risorse Che c'erano Ma alla fine Boh Non è andato malissimo Ho sbagliato anche A mettere le pozioni Vabbè Sì vabbè Qua i giganti Hanno fatto un po' Non sono andati male Vabbè Niente di Di speciale Ecco perché Era da tipo 10 minuti Che stavo cercando Continuamente Mi ero rotto le palle E allora ho attaccato Uno così Vabbè quindi ragazzi Alla fine il video Era per Unirvi al clan Per dirvi il nome Del clan E niente ragazzi Io spero che Vi 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 uniate al clan Saluto anche Gladiator Gladiator Come si dice Che è un mio amico E niente Io spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Se siete al canale Uniti al clan E bella ragazzi Uniti al canale E sauve Vi Vi Grazie a tutti.